Campania. La buona sanità, anzi l'eccellenza della sanità c'è anche in Campania. Alla Breast Unit dell'azienda ospedaliera universitaria Federico II è stato eseguito un intervento chirurgico di grande rilevanza su una giovane donna portatrice di una mutazione genetica responsabile di un aumento significativo del rischio di tumore alla mammella e all'ovaio. L'intervento, della durata di quattro ore, è stato eseguito da quattro diverse equip mediche e chirurgiche. Alla guida del team della Breast Unit, il dottore Tommaso Pellegrino, dirigente medico dell'UOC di Chirurgia Generale ad indirizzo bariatrico, endocrino metabolico e senologia.